Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AC News. In questo video ti porto un'anteprima davvero speciale che cambierà per sempre il destino di uno dei personaggi della serie. Ma prima di iniziare ti chiedo gentilmente di supportarmi con un bel mi piace e se ti va iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Gulten si aggira per la città, intenta a comprare del cibo. Quando sente alcune donne fuori dal negozio che commentano la vendita di tutti i vestiti di Demir da parte di Unkar di fronte alla compagnia. Le donne commentano che anche se rispettano Unkar secondo loro non si è comportata bene perché ha umiliato suo figlio anziché risolvere il problema in privato. Tuttavia riconoscono che i loro problemi sono sempre stati noti e che Demir stesso ha umiliato Unkar portando l'amante di Adnan come ospite al matrimonio di Sabatin. Estimono anche l'opinione che forse Unkar è stata giusta nel punire Demir. Ma arriva Beice con loro e le donne gli raccontano la loro conversazione. Tuttavia Beice afferma che è normale che ci siano problemi di convivenza anche nelle migliori famiglie ma che non possono essere normali avendo una persona instabile come Zuleia che vive con loro. Ricorda anche che Zuleia ha tentato di bruciarsi e ha sparato anche al marito quindi è fuori di testa. Commenta persino il suo tentativo di spararsi al cuore. Le donne concordano con Beice esprimendo preoccupazione per i figli di Zuleia perché non ritengono che siano al sicuro con Unkar che è instabile e Zuleia che è pazza. Beice suggerisce che un giorno Zuleia potrebbe perdere la testa mentre far bagno ai bambini e finire per annegarli. Bullten guarda le donne scioccata e tutte iniziano a entrare nel panico concordando sul fatto che Zuleia rappresenta un pericolo anche per i suoi figli e che è pazza. Bullten arriva alla villa e racconta a Zuleia ciò che ha sentito accennando il fatto che Beice è un demone che ha manipolato diverse donne di Kukurova e le ha portate dalla sua parte. Nel frattempo Sermin arriva alla villa ma le guardie rifiutano di farlo entrare poiché Unkar ha ordinato che nessuno possa entrare. Sermin insiste e vedendo staniglie le chiede di intervenire affinché le sia permesso di entrare. Bullten esprime la sua rabbia per le parole di Beice che la definita pazza è pericolosa per i bambini. Zuleia sostiene che ha fatto bene allo lasciarsi trasportare dalla rabbia e che non devono dare importanza a ciò che dice Beice. Tuttavia Bullten si rifiuta di farlo e le ricorda ciò che Beice ha detto su di lei sottolineando la gravità delle accuse e il fatto che quelle donne concordassero senza sapere cosa Zuleia ha passato e ha dovuto soffrire per vedere i suoi figli. Sermin chiama Zuleia ma non riceve risposta. Sarà al piano di sopra per cercarla e quando entra nella sua stanza sente la conversazione tra Bullten e Zuleia. Bullten commenta che la cosa più difficile da sentire è che Zuleia ha cercato di togliersi la vita sapendo perfettamente che Musgan era colpevole che non ha mostrato alcun rimorso o vergogna. Accusa anche Zuleia di mentire e diffamare. Musgan un medico che è ammirato dalle persone senza sapere che tipo dimostra se realmente dovrebbe essere in prigione. Bullten chiede a Zuleia perché non dice la verità e perché non si rivolge alle autorità. Zuleia risponde che sa che nessuno le crederebbe. Bullten continua a insistere ma Zuleia le ricorda che non ha nessuno che la sostiene. Nel frattempo Sermin è fuori e rimane scioccata. Viene scoperta ma finge di essere appena arrivata. Zuleia va incontro a Sermin e inizia una chiacchiera un po'. Demir scopre che Unkar venderà le sue azioni a Dilma quindi va a lamentarsi con loro. Non ottenendo risposta minaccia Fecheli accusandolo di averlo tradito. Torna arrabbiato in azienda e trova Sermin il suo ufficio. Demir con rabbia le chiede cosa ci faccia lì e cosa voglia. Sermin spiega che devono parlare di una cosa importante ma Demir con rabbia afferma di non voler avere a che fare con lei in quel momento e le chiede di andarsene. Sermin insiste dicendo che si tratti di qualcosa di urgente. Demir le chiede se vuole chiedergli dei soldi e dice che non gli importa cosa le succederà invitandola a chiedere aiuto a qualcun altro. Sermin dice che si tratta di Zuleia e Demir con più calma chiede cosa sia successo. La donna risponde che non è sicura di fare bene a dirglielo ma sente di doverlo fare perché ha solo una famiglia. Spiega di essere andata alla villa per cercare Zuleia e quando si è avvicinata alla sua stanza l'ha sentita parlare con Golten dell'evento nella foresta. Golten gli ha detto che deve andare dall'autorità e dire la verità visto che viene calunniata in città. Demir chiede quale sia questa verità e Sermin dice che Zuleia non si è sparata da sola ma è stata Mojgan a cercare di ucciderla. Demir si arrabbia di finendola la cosa stupida e Sermin se ne va arrabbiata dicendogli che se non vuole crederle allora non lo faccia. Aggiunge che voleva solo fargli un favore ma Demir la ferma e le chiede di più. Le chiede dei dettagli su ciò che ha sentito. Sermin dice che Zuleia non vuole raccontare nulla perché pensa che nessuno le crederebbe. Tuttavia glielo dice solo per avvertirlo di stare attento a Mojgan. Demir si reca quindi dal procuratore per chiedere informazione sulla pistola che ha ferito Zuleia chiedendo di indagare su chi possiede l'arma e chi ha il porto d'armi. Il procuratore gli dice che l'evento non è stato classificato come tentato omicidio ma Demir insiste affinché indaghino sul porto d'armi perché Zuleia potrebbe essere in pericolo. Il procuratore consente e inizia l'indagine. La sera arriva l'informazione sulla licenza di porto d'armi che conferma che nessuno della famiglia Yaman ne è in possesso. Il procuratore assicura Demir che indagherà sul caso come tentato omicidio. Demir vede il documento e rimane scioccato nello scoprire chi ha la licenza. Si reca quindi con rabbia a casa di Fecheli per reclamare. Fecheli gli urla dicendo che non gli permetterà di diffamare sua nuora. Demir mostra con rabbia la pistola che ha ferito Zuleia chiedendo loro se la riconoscono e mostra loro la licenza affermando che è stata Mojgan a cercare di uccidere Zuleia. A questo punto tutti sono scioccati. Ilmaz rimane impietrito mentre Mojgan è terrorizzata di essere stata scoperta. L'anteprima finisce qui. Cosa ne pensi? Scrivimi nei commenti e se il video ti è piaciuto lasciami un mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara e come ultima cosa non dimenticarti di attivare le notifiche così rimarrai sempre aggiornato. Grazie di cuore se lo farai e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!